Yes, no, sceglieremo di scambiare i nostri antistress, lo scopriremo in questo video, ma prima sigla Yolanda Switz Hello everyone, rieccoci tornati con un nuovissimo video, come state? Spero tutto bene, come avete passato la vostra giornata? Spero bene Ciao amici, io sono Yolanda Switz Io sono Daniele, detto Danny Boy Oggi andiamo a fare una nuova Challenge Yes or no? Yes or no? Come? Yes No Con i nostri antistress fidget toys misteriosi Se questo video raggiunge 600 like andremo a fare un prossimo episodio con gli slime Vogliamo ricordare che sul mio sito che si chiama www.yolandaswitz.it andate da cercare su google Ci sono le novità, ossia le candele profumate, realizzate da me che avete visto il video martedì E anche gli slime, quindi andate a dare un'occhiata Allora prima di iniziare questo video Sì, che facciamo? Vogliamo far indovinare ai nostri amici cosa ha mangiato Daniele oggi a pranzo Daniele secondo voi ha mangiato la pizza, la pasta o il sushi? Non abbiamo la materia prima È vero, dove sono i fidget? Ah sono qua Adesso vediamo se la scatola di fidget è bella oppure no Uno, due Oh Bellina, diciamo se Oh, carino questo Eh? Coppi Allora, in cosa consiste questo video? Dobbiamo scambiarci i fidget Ok Accettare oppure non accettare Non è come il trade, ossia che io cosa faccio? Ti metto dei fidget Ti propongo, tu accetti oppure no In base se mi piacciono meno Esattamente Ma io direi che Guarda, per sciogliere un po' il ghiaccio Ma perché lo voglio proprio sciogliere ti offro questo gelato Allora, il gelatino Ti ho gelato Più Uh, è bello, me la mangerei È la brioche Ok, allora Scambio Io Dite, accettiamo Ci sono cose un pochino più carine Però ricordiamo che chi accetta o prende più cose vince Però non voglio prendere le cose brutte Quindi cosa facciamo secondo voi? Accettiamo oppure no? Yes, baby Ah, è accettato Accettiamo Anche se la briochina mi dispiace, la carina La briochina è molto bella Ti offro Che ne offri? È un colbone Mi stanno un po' a pit A forma di ape Ma io vado subito con Yes, 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 yes E io si è pure voluto yes, yes Offro questo tubo già aperto Questo alpaca C'è l'ora che prima si preme Offro un clac clac Tira molto lo squishy però No 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 Niente Rifiuto 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 Perché voglio un'offerta migliore Non l'avrai Tocca a te Allora guarda Io ti offro questo Che è un antistress Così Una mano E ti offro No Questo non mi piace Questo No Non mi interessa No Allora io ti offro Allora io ti offro Ragazzi Io sono Come lui è cantivo Che cos'è sto co? È un verbo Senti Ti offro Questa lumaca Canterina Ok Daniele un sacco di cose Non le conosce Voi le conoscete Perché le abbiamo aperte nei video Eh no Sono nuove Sono tutto un sacco di novità Di fidget toys Questo è un pop it a palla È vero Un sacco di cose nuove ragazzi Pop it a palla E ti offro Pikachu in miniatura Mi prendo tutto È bellissima sta cosa È tutto bellissimo È fantastico È tutto bellissimo Allora Io ti offro Mi raccomando Trattami bene Guarda È anche nuovo Uno spinner pop it Ah È pure imbustato Esatto Poi ti offro Il clack clack Questo qui E poi Ti offro Un oggetto misterioso Che cos'è? Eh questo Eh ma tu giochi sulla mia curiosità Se lo accetti Lo scoprirai Altrimenti niente Chiamino quale 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 Ok vediamo Hai accettato Una piccola foglina La chiamerò margheritina Una foglina Allora cosa mi offri Chiamino quale Cosa mi offri Vediamo Cosa mi offri Ti devo accettare Oppure no Questo coso Quello che fa così No E un'altra cosa E questo coso Sto vetto Allora Ti va ci entro tutti da dentro Allora Ragazzi E' un po' misero Devo dire la verità Dipende dal punto di vista E' un po' E' un po' misero Però Non lo so Cosa faccio Accetto oppure no Accetta No Allora Io Guarda cosa ti offro Una ciambella pop it Sono brava E Siccome questa vale tanto Il braccialetto unicorno Ma è brutto No Hai rifiutato Hai rifiutato la mia offerta Questa Uovo fritto Pop it Hai rifiutato la mia offerta Non mi piace il braccialetto Quello con il verminio Ma non c'è Ma Dai Ti offro una busta Di vermicelli colorati E anche io Unicorno Che fai Allora Accetto Si accetto Allora Guarda Io accetto Che crazy Accetto E io ti ripropongo Di nuovo questo E però Offri di più Frutte fedecchie Offri Ti offro Allora Il pop it Forma di razzo E E ti offro uno squishy unicorno Ragazzi questa è un'offerta Che dovrei accettare Ragazzi ma Tu tocca a te Ti offro sto coso che Che Yuki c'ha sempre paura Guarda che fa Un panda Che caccia palline Queste due cose ti offro Questo No No E me li riprendo No L'ho offerto Questo No Vabbè No Rifiuto Rifiuto e vado avanti Allora io ti offro questo Molto moda Anni 90 Se te li ricordi Sembra i miei capelli Si proprio uguali Poi ti offro questo Antistress E ti offro Guarda Fammi riprovare Così decido Guarda Lo apro Apposta per te E' uno skateboard No mi piace Hai rifiutato la mia offerta Non mi piace Non mi piace Va bene Io ti offro una borsellino pop fit Ancora imbuttato Sto coso che E' un clac clac Mio 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 Però tu ti offri sempre cose brutte Non è vero Guarda cosa ti offro Ti offro La raccosta E' carina Guarda Sono brava ragazzi Devo provare Devo testare Devo decidere Solo se accetti No Non devi testare Alla fine Poi ti offro Vediamo Questo che è storico Questo è veramente E' millenato E ti offro di nuovo Lo skateboard Perché mi devi dare Le cose che a me non piace Perchè La raccosta è bella Offro Sto coso Ci sono Arrabbiata Questo qua mi servirebbe Con te Guarda Tubone Un altro tubone E uno slime Nell'ovetto Lo slime ancora Non era stato proposto No Vedi offro belle cose A differenza Tu No Allora Non ho ancora deciso Ma la mia risposta La mia risposta è Yes 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 Ovvio Ci hai metto due cose Che io amo Che ti offro Guarda Qua dentro c'è una sorpresa Il formaggio Eh ma c'è una sorpresina Che solo se accetti Lo scoprirai Ti offro questo Una banana squishy E poi ti offro Questo Ma stiamo scherzando Che cosa c'è? Un topolino Un topolino E la banana squishy ragazzi No vabbè Un po' durina in realtà Però si ci sta La banana squishy Ecco io Colleggiatria Ti offro Sto coso Che non so che serve Va bene Pop it Monografiera Monta chiavi con lo smile E? Vediamo E E la cacca squishy Mamma ragazzi Cosa devo fare? Fermo Fatti gli affari tuoi Cosa devo fare? Cioè mi conviene Accettare Yes Per queste cose? Eh no Decidi tu Però le mie cose Sono più belle Vabbè Yeah 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 Vai Comunque sì Accetto Allora Però ora devi farmi Un bel offerto Eh però Questo che ti sto per offrire Vale guarda Vale per tutta la mia scatola Davvero? Sì La pannocchia La pannocchia ragazzi Questo è zucchero Fermo La pannocchia squishy Eh già sto su sì guarda Fermo Già sto su sì Non mi farò andare sul no Già sto su sì Questo? Mmm Sono a metà Questo? Mmm Che vuoi Poi ti posso dare Lecca lecca Pop it Ritorno sul sì E poi ti posso dare Questo Ora vedi tu se accettare In realtà solo questa è bella Ma non è vero È tutto bello Sei tu disposta ad accettare Ma se è l'ultimo Penultimo La manina piccicosina Bello Un braccialetto Pop it Visto che poi dobbiamo andare a mare Ti offro un calamaro Pop it No No Diamo un pochino Chi è andato meglio In questo trade Ragazzi Ragazzi Siamo pari Pari Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Perché vi sia piaciuto Il trattenuto Secondo me sì Siamo stati molto belli E strappato un sorrisone Come sempre Noi vi vogliamo bene Un bacione ed un abbraccio E noi ci vediamo domani Alle 14.30 Con un nuovo video Ciao